cominciamo lo stranimento di oggi 2019 allora vabbiamo ma non è vero anzi allora sentiamo tu grande? si il cuore si sente dopo quello che è scolito non devo vedere ma adesso è meglio non c'è il vissuto quando faccio il corpo non c'è il vissuto che è ancora grazie 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 via 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 un po' di mezzo, una trecchina costa, piecnica, trecchina costa, piecnica su di partaglia, da qui è passare, da qui te potevano la strada di bloca, da qui te sapo da nozano. Come io, vedi 4-5 milioni, poi hai fatto il fatto. Ah si, hai dato un po' Adesso è uno sciapo E' un po' più E' un po' più E' un po' più E' un po' più Molto Mi ha detto E' un po' più 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 Ma se Non lo so Ma le vite Si, si ma lo so Ma non lo so non si chiude poco che sono le rearze che sono che sono le rearze che sono le rearze Sì. 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 Ma non sto 마. Sì. Sotto? Grazie a tutti. 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 Ok? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Gli ci sono fatti? No. Bene, l'altra la mano. Grazie. Armina. Grazie. Mi da qui. Un'altra mano. Grazie. 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 Sì, non è vero. Grazie. 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 Fai due e poi trecchi. Un... 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 Hai visto? Ja. Grazie. Ha... Un... 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 Grazie. Parco tutto. Arriva. Ok. Spendiamo qua. Un po' a destra. E' tutto qui. Che va? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.